Una grande novità che è l'Edonis, che è il nostro top di gamma. È un erodavola 100%, una riserva, un vino potente, strutturato, che ci dà tante soddisfazioni e ci darà tante soddisfazioni. Il Dalile invece è un bianco, una nostra riserva di bianco, che è all'80% Grillo con un 20% di Bionier. Quindi è un vino molto aromatico, che però mantiene le caratteristiche peculiari del Grillo, che sono l'acidità e la freschezza. Ma noi cerchiamo un po' di promuovere tutti quelli che sono i nostri vitigni, e quindi i nostri vini. Principalmente puntiamo molto sugli autoctoni, quindi Grillo, Nero d'Apola e Inzoli essenzialmente, però accompagniamo anche a questi, affianchiamo anche a questi vitigni internazionali, come lo Chardonnay, il Merlot e il Siratese.